Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo anche che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È l'estate del 2016 e ci troviamo a Brighton, una località balneare situata nell'East Sussex, nel sud-est dell'Inghilterra. Residenti, visitatori e artisti affolano l'enorme molo costruito sul lungomare per fare un bagno, rilassarsi. Ma quest'estate non assume toni splendenti per tutti, anzi, per qualcuno è sferzata dal vento gelido dell'indifferenza. La protagonista di questo caso si chiama Shana Grice, una ragazza di 19 anni che vive a Brighton. Shana è figlia unica, sua madre si chiama Sharon, mentre il suo patrigno si chiama Richard. La sua infanzia risulta tranquilla dalle poche informazioni disponibili in rete e da adolescente Shana viene descritta come una ragazza brillante, amichevole e anche divertente. Coltiva diversi hobby, ama la musica e, come molti suoi coetanei, adora le boy band, guardare i reality in tv e andare alle feste con gli amici. Shana ne ha tanti, è una ragazza popolare e protettiva nei loro confronti, sempre pronta ad ascoltare e a dare una mano. All'epoca del caso Shana ha lasciato la casa dei suoi genitori e vive con due amiche nella località di Mile Oak a Portslade, sempre a Brighton. Facciamo un piccolo passo indietro. Nel 2015 Shana trova lavoro come receptionist presso la Brighton Fire Alarms, una società di allarmi antincendio. In questo ambiente la ragazza conosce il collega Michael Lane, meccanico della ditta. Mentre Shana ha ancora 18 anni, lui ne ha 26. I due diventano amici, ma Michael palesa ben presto che desidera qualcosa di più da Shana. È attratto da lei e inizia a corteggiarla. Va a trovarla spesso al lavoro quando i loro turni non combaciano. Le propone di passare del tempo con lui, le dà attenzioni e la tratta con affetto. Insomma, è molto insistente. Alla fine Shana resta coinvolta da Michael e per cominciare a frequentarlo, lascia il suo ragazzo del liceo con cui stava insieme da qualche anno, Ashley Cook. Shana e Michael nascondono di avere una relazione sentimentale per i primi due mesi, soprattutto perché non vogliono che la situazione diventi imbarazzante per i colleghi. Durante questo periodo il loro rapporto sembra idilliaco. Michael è dolce e attento con Shana, la ricopre d'amore e di regali. Cerca di passare più tempo possibile con lei. Sembra che Shana stia vivendo quel tipo di relazione che ogni ragazza sogna. Ma la sua felicità con Michael non è destinata a durare, perché in lui emergono dei tratti caratteriali allarmanti. Michael può diventare particolarmente geloso e possessivo. E questo porta la coppia a discutere sempre più spesso. Finché Shana, nel dicembre del 2015, prende la decisione di chiudere la storia, esasperata. Tuttavia, Michael non accetta la rottura. Non vuole separarsi da Shana e che lei vada avanti con la sua vita. Infatti prova a riavvicinarla con dei tentativi alquanto molesti. A metà di gennaio del 2016, Shana compie 19 anni e sta di nuovo con il suo fidanzato storico, Ashley Cook. La coppia ha voluto concedersi un'altra possibilità. Shana dunque si sta chiaramente allontanando da Michael, ma lui, proprio nel giorno del compleanno della ragazza, le manda a casa un enorme mazzo di fiori. Questa insistenza mette a disagio Shana. Chi ha chiarito svariate volte di non voler più stare con Michael. Dunque, perché le regala dei fiori per il suo compleanno? Questo gesto di Michael non serve a riconquistarla, anzi, la agita, ma lui non è intenzionato ad arrendersi. Michael elabora di continuo nuove idee e le mette in pratica nell'obiettivo che Shana torni ad amarlo. Ad esempio, buca le gomme della macchina di Shana, poi si nasconde e salta fuori al momento opportuno per proporsi di darle una mano, visto che fa il meccanico. Michael vuole che Shana lo identifichi come un eroe pronto a salvarla ogni volta che lei ne ha bisogno. Ma questa tattica si rivela infruttuosa perché Shana ormai è tornata con Ashley. Così Michael, che si sente in competizione con lui, comincia a prenderlo di mira. Appena Ashley parcheggia la macchina ed entra in casa, Michael gli vandalizza l'auto e poi posiziona un biglietto sul suo parabrezza, dove ha scritto, Shana ti tradirà. Sempre. Michael spera che Ashley si sospettisca e si decida a mollare Shana. Si ostina a non lasciarla in pace, anzi esagera sempre di più, arrivando ad appostarsi sotto casa della sua ex per spiarla, guardandola attraverso la finestra. Poi prova a nascondersi e a pedinarla, smagnoso di sapere cosa fa, quando esce e dove va. Ma Michael è una spia piuttosto goffa, infatti Shana spesso lo sorprende. A questo punto è davvero spaventata dall'ossessione che lui ha nei suoi confronti. Così, l'8 febbraio del 2016, la ragazza decide di chiedere aiuto alla polizia. La prima cosa che dice alla gente che le risponde al telefono è «Non so davvero come iniziare questa conversazione, ma penso di essere perseguitata». La poliziotta che compila il rapporto sulla segnalazione di Shana viene identificata come Signorina A, infatti il suo vero nome non è mai stato reso pubblico. La Signorina A capisce che Shana è spaventata, perché Michael la sta muovendo. La ragazza prova ansia e paura, ma allo stesso tempo si preoccupa di non causargli problemi, perché non vuole vendetta o che Michael perde il lavoro. Desidera soltanto che la lasci in pace. Shana chiede l'intervento della polizia affinché dia a Michael un chiaro avvertimento, sperando che smetta di perseguitarla. Michael dunque riceve una telefonata dalla Signorina A, la quale gli consiglia apertamente di lasciare in pace Shana, ma lui si rifiuta di fare marcia indietro. Passa circa un mese, è il 24 marzo, quando Shana contatta nuovamente la polizia. Spiega di aver partecipato a una festa in ufficio con i suoi colleghi, quindi anche Michael era presente. A un certo punto Shana decide di abbandonare la festa e tornare a casa, e dopo un po', le sue due amiche coinqueline fanno lo stesso, ma a camminare con loro c'è anche Michael. Onestamente non so perché le amiche abbiano agito così, forse non sapevano di tutti i problemi che Shana stava avendo con lui. Forse la ragazza preferiva custodirli in segreto. In ogni caso, quando le coinqueline tornano, Michael entra in casa con loro. Shana, come è ovvio che sia, si infuria, non lo vuole nella sua abitazione, anzi non vorrebbe vederlo proprio più. Così se ne va per raggiungere la casa del suo fidanzato Ashley. Ma appena Shana si allontana, Michael inizia a seguirla. Corre verso di lei, i due iniziano a litigare, e Michael cerca di strapparle il telefono dalle mani. Accecato dalla gelosia, pur di vedere a chi Shana sta mandando dei messaggi, nel tentativo di sottrarle il cellulare, le strappa alcuni capelli e la colpisce più di una volta. Quindi questa volta l'aggredita fisicamente. Non parliamo di abusi unicamente psicologici ed emotivi. Dopo questo episodio a dir poco preoccupante, Shana corre a casa del suo ragazzo. È comprensibilmente in preda al panico, così Ashley e la sua famiglia la esortano a chiamare la polizia e a riferire ciò che Michael le ha appena fatto. Siccome Shana è ancora troppo turbata, ci pensano Ashley e i suoi genitori ad andare a denunciare l'aggressione esercitata da Michael. Un ufficiale di nome Trevor Godfrey viene mandato a parlare con Shana per raccogliere una dichiarazione sull'accaduto. Successivamente Trevor Godfrey raccoglie una dichiarazione anche da Michael che ammette di aver aggredito Shana e viene arrestato. Michael spiega all'ufficiale che lui e Shana litigavano spesso, si lasciavano ma poi si rimettevano insieme dopo qualche giorno. Gli mostra alcuni messaggi scambiati con lei che lo provano. Shana invece non ha raccontato all'ufficiale che lei e Michael erano stati insieme probabilmente perché ha dovuto rilasciare la sua dichiarazione in presenza del fidanzato e dei suoi genitori. Trevor Godfrey non le ha permesso di parlare con lui in privato quindi forse Shana si sentiva a disagio a rivelare certi dettagli in questa situazione. Si è parlato unicamente di un'aggressione. Dunque quando l'ufficiale ascolta la versione di Michael salta immediatamente alla conclusione che si è trattato di un comune litigio tra ex fidanzati. Non ravvisa l'esigenza di indagare oltre o di intraprendere un'azione contro Michael per condannare la sua aggressione. Anzi decide di accusare Shana di aver fatto perdere tempo alla polizia soltanto perché lei non ha rivelato chiaramente che Michael era il suo ex. Come se tutti gli ex fidanzati non avessero mai fatto del male alle ragazze con cui sono stati. Non capita mai che un uomo uccida una donna solo perché lei l'ha lasciato. Giusto? Chiaramente la mia è un'ironia amara. La cronaca purtroppo ci riporta ben altro e mi fa così tanto arrabbiare questa situazione. Come in molti altri casi Shana ha denunciato il suo ex. Aveva paura di lui. Ma dato che non ha sottolineato che era stata insieme a Michael per Godfrey merita di essere accusata di inganno. È vero che Shana non ha chiarito a pieno la natura e le circostanze del suo rapporto con Michael ma non capisco perché questo particolare sia così rilevante. Che differenza c'è tra una donna che viene aggredita da uno sconosciuto o da un ex fidanzato o anche da un partner attuale? Non vanno tutelate tutte allo stesso modo? Quella che Shana ha subito resta un'aggressione indipendentemente dalla relazione tra la vittima e il colpevole. Ma come immaginerete l'agente Godfrey non condivide questo punto di vista non crede che Shana sia in pericolo e che Michael rappresenti una minaccia per lei. Infine Michael viene rilasciato senza alcuna accusa mentre Shana viene punita con una multa da 90 sterline per aver fatto perdere tempo alla polizia. Vi ricordo che questa è pure la seconda occasione in cui Shana denuncia alla polizia di subire molte persecuzioni da parte di Michael. Sono andate avanti per mesi e ora si sono estese all'aggressione fisica ma mentre lui rimane impunito lei viene trattata come la colpevole. Pochi giorni dopo questo episodio demoralizzante a dir poco Shana decide di lasciare il lavoro come receptionist presso l'azienda di allarmi antincendio dove come sapete lavora anche Michael. Poco dopo la ragazza chiude definitivamente la relazione con Ashley e fa una scelta inaspettata. Torna insieme a Michael per un breve periodo dopo averlo denunciato alla polizia per stalking. Lo so questa scelta stranisce anche me ma non possiamo comprendere fino in fondo i motivi per cui Shana ha ceduto di fronte all'insistenza di Michael. Lui continuava a seguirla, a spiarla, a presentarsi sotto casa sua. Michael non temeva la polizia, non gli importava di causare stress alla sua ex di molte persone perché ossessionato dal suo obiettivo di riaverla. Non sappiamo inoltre cosa passasse per la testa di Shana in questo periodo ma forse sentiva di non avere altra scelta visto che neanche la polizia l'aveva ascoltata e supportata. In quest'ottica forse Shana avvertiva che era lei a sbagliare che lui non aveva fatto nulla di male quindi poteva concedergli un'altra possibilità. Si è convinta di aver reagito in modo esagerato, eccessivo anche se non è affatto così. Shana da tempo è vittima di un controllo coercitivo e di abuso emotivo da parte di Michael al punto che lui riesce a demolirla fino a ottenere la sua resa. Shana decide così di riprendere la relazione ma la tregua non dura a lungo perché Michael non ha assolutamente cambiato i suoi modi di fare e di agire e continua a essere geloso, possessivo e controllante come sempre. Quindi la coppia litiga costantemente e ancora una volta Shana interrompe la relazione e di nuovo Michael si rifiuta di lasciarla in pace non vuole che lei vada avanti con la sua vita. Michael decide che la sua missione sarebbe stata quella di intimidirla di perseguitarla finché lei non avrebbe accettato di tornare con lui ancora una volta. Nel luglio del 2016 Michael trova dentro a un vaso di fiori la chiave di scorta della casa di Shana e la ruba. Verso le 6 del mattino del 9 luglio Michael decide di fare irruzione apre la porta sul retro entra in casa e va dritto verso la camera di Shana lei è ancora a letto ma è sveglia ha sentito qualcuno salire al piano di sopra ed entrare nella sua stanza. Spaventata resta in silenzio e si nasconde sotto la coperta fingendo di dormire. Tutto ciò che riesce a sentire è il respiro pesante dell'intruso. Poco dopo avverte che lui se ne sta andando sente la porta di casa chiudersi così salta giù dal letto guarda fuori dalla finestra e lo vede. È Michael che si allontana. Shana ora sa che non è al sicuro nemmeno in casa propria nella sua camera da letto. Vorrebbe a questo punto richiamare la polizia ma si rende conto che non ha le prove per dimostrare l'irruzione di Michael quindi decide di procurarsene. Chiama subito Michael al cellulare e registra la chiamata senza che lui lo sappia nella speranza che ammetta di essere entrato in casa per poi consegnare la registrazione alla polizia. Michael durante la telefonata ammette di averle rubato la chiave di casa e di essersi introdotto nella sua camera da letto. La discussione iniziata per telefono continua attraverso dei messaggi. Shana gli scrive quindi ho una domanda che mi disturba davvero perché hai preso la chiave? Michael risponde perché volevo vederti e parlarti adeguatamente e sapevo che non mi avresti lasciato entrare. Shana risponde sì ok ma non va bene. Michael risponde lo so semplicemente non sono a posto con la testa se lo fossi non l'avrei fatto vero? Shana ribatte beh forse hai bisogno di aiuto. Michael durante la chiamata ha detto una cosa importante ossia che d'ora in poi avrebbe lasciato Shana in pace che non l'avrebbe più contattata e lei concorda che questa sia la cosa migliore da fare. Tuttavia come potete immaginare Michael non mantiene affatto la parola data. Shana a seguito di questa discussione telefona alla polizia racconta dell'irruzione e consegna la registrazione in cui Michael ammette di essersi introdotto a casa sua. Michael viene arrestato ma incredibilmente ancora una volta se la cava con un semplice avvertimento verbale per aver rubato la chiave di casa di Shana. Di nuovo la polizia non intraprende alcuna azione opportuna mirata a proteggere Shana da lui. Ora cerchiamo di metterci nei panni di Michael per un attimo. Questa è la terza volta che Shana chiama la polizia ma ogni volta la polizia non lo punisce. lo tratta come un soggetto a basso rischio quindi probabilmente Michael si convince che può importunare la sua ex quasi indisturbato al massimo avrebbe ricevuto degli avvertimenti verbali non viene preso alcun provvedimento concreto per condannare le sue azioni. Quindi perché dovrebbe smettere di molerire? Perché dovrebbe allontanarsi da Shana? Infatti il giorno successivo all'irruzione il 10 luglio Shana ricontatta la polizia per riferire di aver ricevuto numerose telefonate da un numero sconosciuto. Ogni volta che rispondeva l'interlocutore restava in silenzio ma le lasciava sentire il suo respiro lo stesso respiro profondo che l'aveva inquietata durante l'irruzione in camera da letto. Ecco perché Shana è convinta che a chiamare ripetutamente è proprio Michael nel tentativo di intimidirla e spaventarla ancora di più. Mentre Shana spiega la situazione alla polizia dice esattamente ho davvero paura ora ho davvero tanta paura eppure neanche questa volta viene intrapresa alcuna azione adeguata. La polizia compila un rapporto ma non valuta la situazione come preoccupante le testimonianze di Shana non costituiscono una prova e cadono nel vuoto. Il 12 luglio appena due giorni dopo Shana chiama la polizia per la quinta volta. Ha ripreso a lavorare e ha notato che Michael la stava seguendo mentre lei era la guida della sua macchina per recarsi al lavoro. Shana attraverso lo specchietto retrovisore lo ha individuato alla guida proprio dietro di lei. Non è assolutamente la prima volta che accade ma è la prima in cui Shana se ne accorge. Dovete sapere che Michael spesso seguiva Shana si appostava sotto casa sua e quando lei usciva lui la pedinava nei pub o club per capire chi dovesse incontrare. Segretamente Michael aveva montato un localizzatore sotto la sua auto una Renault Clio e ogni 10 giorni a tarda notte tornava per cambiare le batterie. Durante questa ennesima denuncia alla polizia Shana ribadisce chiaramente che è spaventata prova terrore ogni volta che esce di casa perché Michael riesce a seguirla letteralmente ovunque ma ancora una volta la polizia non interviene. Anzi poco dopo questa quinta segnalazione Shana riceve una lettera dal dipartimento di polizia del SACSEX e apprende così che stanno chiudendo il suo caso non avrebbero più indagato. Onestamente a me sembra che il caso non sia mai nemmeno stato aperto per l'indifferenza che Shana ha dovuto sperimentare. Se la polizia avesse indagato in modo adeguato se avesse considerato scrupolosamente il quinto rapporto di Shana avrebbe potuto scoprire che Michael aveva posizionato un localizzatore sotto l'auto della 19enne. Ogni volta ogni singola volta che Shana partiva con la macchina sul telefono di Michael arrivava un avviso dunque né Shana né la polizia con il suo agere superficiale né sono al corrente. Onestamente questa situazione mi trasmette così tanta tristezza e sconforto Shana è stata ampiamente delusa dalla polizia da coloro che avrebbero dovuto proteggerla. Invece le sue parole sono state ignorate tutte le volte in cui ha chiesto aiuto ha sottolineato in ogni occasione di essere spaventata di temere quell'uomo ma non hanno fatto nulla assolutamente nulla. All'inizio di agosto del 2016 Shana confida a un'amica di aver visto Michael il gironzolare fuori da casa sua in attesa di vederla apparire da una finestra. Shana a questo punto si chiede che senso abbia a richiamare la polizia sa che non le avrebbero creduto che avrebbero minimizzato addirittura proprio lei aveva dovuto pagare una multa per aver fatto perdere del tempo alla polizia. In svariate circostanze la polizia avrebbe potuto fermare Michael invece ha soltanto perso tante occasioni di proteggere Shana. Poche settimane dopo Michael confida a un'amica che si sente depresso perché Shana lo ha scaricato e non sarebbe tornata con lui. A quanto pare aggiunge pure che Shana avrebbe pagato per la sua scelta di mollarlo. Passano un altro paio di giorni e il 23 agosto quando Michael contatta Shana chiedendole un incontro in un hotel. Dice che vuole solo parlarle e vederla un'ultima volta poi avrebbe smesso per sempre di importunarla. Ebbene anche questo è un ricatto se accetta di vedermi un'ultima volta ti lascerò in pace. Nonostante ciò Shana decide di assecondarlo sperando che lui stia dicendo la verità ma quando si vedono Michael le chiede di nuovo di tornare insieme e lei rifiuta. Michael allora decide che visto che Shana lo respinge non le avrebbe permesso di stare con nessun altro. Se lui non può averla nessuno potrà. In verità Shana di nuovo è appena tornata insieme ad Ashley. Il 25 agosto 2016 dopo due giorni dall'incontro definitivo tra Shana e Michael proprio Ashley riceve una chiamata dal posto di lavoro della ragazza. Gli dicono che Shana non si è presentata quella mattina ma non ha contattato nessuno per avvisare della sua assenza. Stranito Ashley chiama il proprio padre Ian e i due decidono di andare a controllare la casa di Shana che sia tutto a posto. Purtroppo una volta lì insieme ai vicini si accorgono che la casa di Shana sta andando a fuoco. Ian nota anche un'impronte insanguinata appena fuori dalla porta d'ingresso. contattano subito i servizi di emergenza che sopraggiungono sul posto ed entrano in casa dove trovano il corpo senza vita della povera Shana Grice. Tuttavia la diciannovenne non è morta a causa dell'incendio né per l'inalazione del fumo. Si rileva che Shana è stata brutalmente uccisa prima che il fuoco venisse appiccato dall'assassino nel tentativo di distruggere le prove. Il modo in cui Shana è morta è davvero orribile. Il colpevole ha usato un coltello da cucina trovato in casa per tagliarle la gola. La polizia del Sussex deve condurre un'indagine per omicidio e ha già un principale sospettato ossia l'ex fidanzato di Shana Michael già deve essere proprio lui colpevole non a caso Shana lo aveva denunciato diverse volte nei mesi precedenti alla sua morte una morte magari evitabile quindi Michael viene immediatamente arrestato con l'accusa di omicidio e portato alla stazione di polizia dove viene interrogato il giorno successivo Michael nega ogni tipo di coinvolgimento nel delitto afferma di non essere l'assassino e che non aveva idea che Shana fosse morta finché non è stato arrestato tuttavia non passa molto tempo prima che la polizia ottenga delle prove contro di lui Michael ha mentito una telecamera al circuito chiuso in una stazione di servizio immortale a Michael che acquista una tannica di benzina proprio il giorno prima dell'omicidio di Shana benzina chiaramente usata per appiccare il fuoco in casa della ragazza anche la telecamera di sicurezza di un autobus di Brighton riprende Michael nei pressi di casa di Shana la mattina in cui è stata uccisa altri filmati di telecamera al circuito chiuso inquadrano Michael dopo il delitto mentre cammina portando con sé una borsa che secondo la polizia contiene i vestiti che ha indossato durante l'omicidio inoltre in alcuni cespugli non lontano dalla casa di Shana viene rinvenuto un paio di scarpe da ginnastica appartenenti proprio a Michael e che presentano delle tracce del sangue di Shana la scarpa in questione corrisponde all'impronta insanguinata che è stata trovata fuori dalla porta della casa della ragazza come se non bastasse la polizia ottiene anche delle prove che dimostrano che Michael aveva rubato alcuni averi di Shana dopo il delitto le ha sottratto la carta di credito e ha prelevato del denaro dal suo conto bancario presso un bancomat quando la polizia mostra a Michael la nottevole quantità di prove che lo collegano al crimine lui decide di cambiare la sua versione dei fatti continua a dichiarare di essere innocente di non aver ucciso Shana tuttavia ora sostiene di aver trovato il suo corpo quel giorno Michael spiega che la mattina in cui Shana è stata uccisa si è avvicinato al suo appartamento e si è stranito perché ha notato che la macchina della ragazza era parcheggiata fuori dalla casa ma a quell'ora lei avrebbe già dovuto essere diretta al lavoro per questo a detta sua si è incamminato verso l'interno e si è accorto che la porta d'ingresso era aperta una volta in casa è salito alla svelta verso la camera di Shana e anche la porta della sua stanza era aperta lì dentro Michael avrebbe trovato il corpo di Shana senza vita riverso sul pavimento e ricoperto di sangue così è andato nel panico non sapeva come comportarsi e si è allontanato disorientato facendo finta di nulla ovviamente i detective non credono a questa storia neanche per un secondo e durante un interrogatorio gli chiedono se davvero non hai ucciso Shana ma hai trovato il suo corpo perché non hai chiamato la polizia e un'ambulanza perché te ne sei andato Michael ribadisce che era spaventato perché sapeva come sarebbe andato a finire se avesse contattato la polizia quest'ultimo avrebbe immediatamente pensato che lui era il colpevole dalle informazioni disponibili non emerge se Michael si sia assunto meno la responsabilità dell'incendio ma a prescindere dalla sua avversione la polizia lo ritiene un bugiardo è stato lui a uccidere Shana e sta ostinatamente cercando di coprire le proprie tracce Michael viene accusato di omicidio ma siccome non confessa finisce a processo dove ora si dichiara non colpevole anche se ammette di averla perseguitata nel 2017 durante il processo che dura circa due settimane la difesa fa del suo meglio per cercare di convincere la giuria che Michael è innocente tuttavia le prove presentate dall'accusa sono schiaccianti dimostrano che Michael ha ucciso Shana e che l'ha fatto perché lei non sarebbe mai tornata con lui questo vuol dire che di base l'ha uccisa per vendetta Michael Lane viene dichiarato colpevole e il giudice lo condanna all'ergastolo con un minimo di 25 anni questo vuol dire che potrà provare a ottenere la libertà condizionale dopo aver scontato almeno 25 anni di pena dopo la morte della figlia i genitori di Shana criticano pesantemente la polizia del Sussex sono comprensibilmente arrabbiati perché credono che Shana sarebbe sopravvissuta se la polizia avesse fatto il suo dovere cioè se l'avesse protetta da un criminale se avesse preso sul serio quelle denunce di mo***a e di stalking il giudice che ha condannato Michael la pensa allo stesso modo infatti rimproverà stramente la polizia del Sussex durante il processo dicendo siete saltati a una conclusione lei è stata trattata come una colpevole e Michael che ha commesso un reato è stato trattato come una vittima apparentemente non c'è stata alcuna attenzione da parte di coloro che indagavano sul caso sul fatto che una giovane donna che ha una relazione con un uomo possa essere vulnerabile e a rischio allo stesso tempo la polizia è saltata alle conclusioni e Shana Grice è stata stereotipata dopo la morte di Shana l'analisi per l'omicidio domestico riguardante il suo caso porta alla luce che Michael aveva già accumulato diversi precedenti per stalking e mo***a ben prima della sua relazione con Shana cosa che tra parentesi non mi sorprende se un uomo si comporta così con una donna probabilmente si è comportato nello stesso modo anche con altre donne con cui è stato in precedenza infatti si scopre che ha mo***a ben 12 giovani donne in un lasso temporale di circa 10 anni tra il 2006 e il 2016 una di queste ragazze si chiama Ellie May nessuno sapeva della sua storia e è stata lei a decidere di parlare pubblicamente per raccontare com'era stata presa di mira e terrorizzata da Michael lui era al solito mandarle foto dell'esterno di casa sua inquadrava la finestra della sua camera da letto per farle capire che la stava osservando le inviava sms in cui scriveva ti vedo in un altro messaggio Michael le offriva 500 sterline a patto che Ellie andasse con lui in una stanza d'albergo e gli lasciasse fare quello che lui voleva Ellie era sempre più intimorita e come ho già detto non è stata l'unica a subire simili m***i da parte di Michael Shana è stata la sua ultima vittima quella che lui è arrivato a uccidere Michael Lane è uno di quegli uomini che non accettano mai un no come risposta non importa quante volte le donne che conosceva gli avessero detto che non erano interessate a lui e che volevano essere lasciate in pace lui non sopportava il rifiuto secondo alcune fonti nel 2010 Michael era stato arrestato perché ha sospettato di aver adescato una ragazzina di 14 anni anche se alla fine non è mai stato accusato di questo reato quindi dal punto di vista legale Michael non aveva precedenti penali nonostante i suoi numerosi crimini commessi ha molato e perseguitato molte donne ma non ha mai subito alcuna condanna fino all'omicidio di Shana il dipartimento di polizia del Sussex dopo l'atroce epilogo del caso ha presentato delle scuse ai familiari di Shana nonostante ciò la famiglia della ragazza si è rivolta alla commissione indipendente per i reclami della polizia la quale ha avviato un'indagine nell'aprile del 2017 la commissione ha fornito alla polizia del Sussex 6 raccomandazioni su come migliorare le procedure per gestire i casi di stalking e viene ordinato di sottoporre gli agenti a una nuova apposita formazione due anni dopo nel 2019 sei poliziotti dichiarano che non avrebbero più emesso multe nei confronti di coloro che denunciano abusi domestici stalking e molte per aver fatto perdere tempo alla polizia come è successo alla povera Shana viene ufficialmente stabilito che la polizia del Sussex ha fallito doveva condurre un'indagine su Michael Lane ancora prima che Shana facesse la sua prima segnalazione visto che ben 12 ragazzi avevano già subito le uccide dell'uomo anche l'ufficio indipendente per la condotta della polizia avvia un'inchiesta sul caso di Shana nello specifico indaga sulle azioni di 14 agenti di polizia coinvolti nelle numerose denunce della giovane nell'aprile del 2019 viene annunciato che tre di questi agenti di polizia sarebbero stati sottoposti ad azioni disciplinari per non aver svolto correttamente il proprio lavoro al fine di proteggere Shana un agente in particolare John Mills è accusato di aver assunto una cattiva condotta perché era stato lui a decidere di dare a Michael un semplice avvertimento dopo che aveva rubato la chiave di casa di Shana ed era entrato in casa sua John Mills avrebbe dovuto essere licenziato dalle forze di polizia tuttavia si è dimesso prima che avesse luogo la sua udienza disciplinare l'ufficiale Trevor Godfrey quello che aveva multato Shana ha dimostrato anche lui di aver adottato una cattiva condotta ma durante la sua udienza preliminare continua a dichiararsi estraneo rispetto a questa accusa perché Shana mentendo stava davvero sprecando il suo tempo anche ora che la provera Shana è stata assassinata lui asserisce di aver fatto bene a multarla tuttavia la giuria conclude che sì i suoi errori sono importanti ha avuto sì una condotta grave ma non cattiva Godfrey sentite bene non viene licenziato perché si ravvedono fattori attenuanti riguardo alle decisioni da lui prese questa notizia ovviamente turba e fa infuriare i genitori di Shana a questo punto sostengono che l'accusa di cattiva condotta contro la gente fosse cito testualmente una battuta e l'udienza è stata una farsa onestamente ve lo devo dire mi assale un'amarezza profonda quando vengo a conoscenza di questi casi quando scopro che la vittima ha chiesto più volte e in vano aiuto alla polizia mi si spezza il cuore Shana era arrivata a pensare che fosse inutile contattarli perché non avevano mai fatto nulla per proteggerla trovo tutto assurdo che un adolescente aggredita abbia preso una multa e che il colpevole abbia avuto il terreno spianato per continuare a perseguitarla a muoverla fino ad arrivare a ucciderla se le denunce di Shana fossero state considerate e analizzate seriamente lei sarebbe ancora viva inoltre ripeto trovo davvero assurdo che la polizia non metta in conto che un ex fidanzato possa perseguitare la donna con cui stava i femminicidi non sono casi isolati anzi ci forniscono dati davvero tanto allarmanti io mi chiedo come può la polizia non dare ascolto a una ragazza impaurita che chiede aiuto perché non è più al sicuro nemmeno in casa propria è assurdo tutto ciò dunque il mio ultimo pensiero va a Shana una ragazza molto giovane che ha incontrato l'uomo sbagliato e che non meritava di fare questa fine orribile spero che i suoi genitori prima o poi possano stare meglio ma credo che la loro rabbia non potrà mai dissolversi del tutto così come la delusione detto questo io ho finito di parlare di questo caso vi ho già detto quali sono le mie idee trovo assurdo tutto tutto quanto trovo assurdo che la polizia non abbia agito in modo puntuale e in modo consono trovo assurdo che Michael avesse già precedenti di molesti e stalking e nessuno a nessuno è importato assolutamente niente di questa cosa nessuno e soprattutto trovo davvero assurdo che si vada a minimizzare una situazione come quella che ha vissuto Shana in una società come la nostra in un momento storico come questo non possiamo raccontarci balle gli uomini uccidono molto spesso le donne per gelosia molto spesso questo caso è uguale a tanti altri casi ma io continuo a portarveli questi casi specifici perché ci sono così tante donne che hanno chiesto aiuto e non sono state ascoltate anzi in questo caso Shana è stata addirittura multata io sono senza parole fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo caso come al solito come vi dico sempre ci becchiamo nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti